Ciao a tutti! Oggi prepareremo i biscotti di frolla ripieni di marmellata. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono zucchero semolato, farina di tipo 00, burro, uova, tuorlo, vanillina, lievito per dolci, scorza di limone, sale e marmellata. Andiamo il via alla ricetta. Mettiamo momentaneamente da parte la marmellata. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza di limone. e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Li uniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il burro. La farina Le uova e il tuorlo Il lievito La vanillina E il sale Ed azioniamo il bimbi Per 50 secondi A velocità 5 La frolla è pronta. Formare un panetto, avvolgerlo nella pellicola trasparente e riporre in frigo per almeno 30 minuti. Trascorse il tempo abbiamo ripreso la frolla dal frigo. Adesso la stenderemo tra due fogli di carta da forno. Dopo aver steso la frolla con una formina andiamo a ritagliare i nostri biscotti. Abbiamo rimosso la pasta in eccesso. Adesso andremo a farcire i biscotti. Mettiamo un cucchiaino di marmellata al centro Ricopriamo con una parte dell'impasto. Chiudiamo bene il bordo Il biscotto è pronto. Posizioniamolo su una teglia rivestita con carta da forno. Continuiamo così per tutto il resto dei biscotti Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 12-15 minuti circa I biscotti sono cotti. Lasciamoli raffreddare del tutto prima di rimuoverli dalla teglia Biscotti di frolla ripieni di marmellata Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!